Se comandano i vecchi, i giovani non hanno spazio, ma se i giovani non gli dicono «Oh, sei vecchio!» E tu lasceresti il posto per uno più giovane? Non è che lascerei il posto, creerai il posto. Il problema non è far alzare i vecchi, far sedere i giovani. E le nuove generazioni non sgomitano per entrare, non fanno lega per entrare. Cioè, ciascuno cerca singolarmente l'aiutino, la spinta, il futuro, fregandosene degli altri. C'è più pigrizia, quindi. C'è da un lato più pigrizia e dall'altro meno coscienza generazionale, che ci si salva tutti insieme. Se voi pensate, lasciate perdere i politici che cambiano sempre, ma se voi pensate alle figure notabili di una società, l'Italia è la più vecchia. Io dico sempre, scherzando, che quando ci sono le grandi riunioni, l'assemblea della Confindustria, sembra la piscina di Cucù in quel film in cui, soltanto che non fa quell'effetto.